Il presidente dell'ACEM Molise Danilo Martino parla di duro colpo per le imprese edili che già versano in una crisi profonda. Sotto la lente dell'Associazione Costruttori Edili il decreto fiscale di recente pubblicato prevede infatti, scrive Martino in una nota, l'obbligo di versare le ritenute fiscali da parte del committente per i lavoratori impiegati nell'appalto in tutti i casi in cui si affidi a un'impresa l'esecuzione di un'opera, stabilendo che l'appaltatore o subappaltatore debba anticiparne le somme al committente stesso cinque giorni prima della scadenza del versamento, con obbligo di fornire tutta una serie di dati inerenti l'identificazione del lavoratore con enorme aggravio di burocrazia e, dice ancora Danilo Martino, dannosa sottrazione di liquidità alle imprese. Secondo l'ACEM un aggravio di grovigli burocratici nella gestione amministrativa dell'appalto che mette a rischio la stessa esecuzione di un'opera finendo di ingessare una filiera già sotto il macigno di innumerevoli adempimenti e la sottrazione di liquidità che ne scaturisce rischia di dare un colpo letale a tutto il settore. Di qui l'appello di Danilo Martino e dell'Associazione Costruttori Edili ai parlamentari molisani con una nota in cui si invoca il loro massimo impegno per lo stralcio totale della norma dal provvedimento in sede di conversione in legge del decreto. Non possiamo accettare questa ulteriore gravosa misura, sottolinea il presidente dell'ACEM Molise, a meno che dallo Stato arrivino le risorse necessarie sia per anticipare le ritenute sia per pagare impiegati e consulenti che dovremo assumere per affronteggiare tutta questa mole di adempimenti burocratici che vogliono imporci.